Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, non le manda a dire e si rivolge ancora una volta all'ACA, il Consorzio Acquedottistico. I cittadini e gli esercenti sono esasperati per la carenza idrica e comincia un'altra settimana di disagi. Ci saranno cinque chiusure notturne, tutto questo dopo la strigliata dello stesso prefetto di Chieti, Forgione, che ha sottolineato la gravità della carenza di acqua e ha invitato l'azienda a trovare soluzioni. Ci è stato risposto nei vari tavoli di riunione che i problemi fondamentali sono quelli che conosciamo e che ci sentiamo ripetere da sempre, ovvero sia l'ammaloramento della rete idrica che secondo l'ACA raggiunge il 74% di perdite sotterranee e la mancanza di fonti di approvvigionamento idrico. Ci può stare anche bene questo fatto, però ovviamente ci manca il vedere quali soluzioni stanno adottando per porre rimedio, se non totale, parziale, a questa situazione. Ora, l'amministrazione ed io in particolare non vogliamo ovviamente lo scontro e il corpo a corpo, vogliamo suggerire e condividere delle soluzioni ad alcune delle quali noi stiamo pensando. Per esempio? Allora, vabbè, innanzitutto la cosa più immediata è la riparazione della maggior estensione possibile delle reti. Poi noi stavamo pensando anche alla vecchia sorgente della maiella che era chiamata l'acqua di Chieti, che alcuni decenni fa è stata deviata e dalle notizie che abbiamo si ferma alle porte di Chieti, a Colle Marcone, nel versante di Bucchianico, dove si potrebbe pensare a un tratto, a costruire un tratto d'unione con la rete idrica di Chieti di 2-3 chilometri, quindi a spese, con spese non enormi. Un altro pensiero che era venuto a me personalmente era quello di vedere, di poter riattivare la cisterna oramai monumentale della Civitella della nostra città per la quale riattivazione c'è un progetto dell'architetto di Vito. Un'ultima cosa, il pronto acqua. Ora, in questa emergenza non possiamo portare l'acqua solo a quei palazzi che hanno l'autoclave. Bisogna capillarizzare questa assistenza a tutti coloro che non ce l'hanno, sia a Chieti Scalo che a Chieti, ma soprattutto a Chieti Scalo.